Finisce Pisa-Bari 1-1 all'Arena Garibaldi, un Pisa che nel secondo tempo ha cercato di controllare il vantaggio ma nel finale veramente in grossa difficoltà a livello fisico, da quando è uscito Veloso in mezzo al campo è entrato Noji che tra l'altro è stato pure espulso, terza partita consecutiva che non finiamo in 11 e soprattutto il gol del Bari è rivenuto da sinistra, mi è sembrato di rivedere un po' il gol subito contro il Parma su quella fascia bisogna sicuramente migliorare, non si può prendere certi gol, bisognava essere molto più attenti Beruato e Steves si sono fatti saltare dall'esterno del Bari che ha messa nel mezzo e anche la marcatura di Reverb da rivedere, sostanzialmente da rivedere, comunque un punto per smuovere la classifica l'abbiamo fatto e come sempre, forza ragazzi, forza Pisa!